Allora, guardiamo insieme cosa abbiamo combinato. Ilari Blasi! Ilari Blasi! Silvia Toffalin! Ilari! Stop! In questo studio, io e Ilari facevamo le letterine di passaparola. Vuoi farmi qualche domanda scomoda? Non hai la farfallina, ho la farfallona. Casomai questa è una tagliata. Aiuto, cominciamo bene. Com'è ritornare in televisione? Ti prende quel mal di pancia? Che dici? Me lo faccio un clipster? Siamo già nel mood. Tu parti da Burigna, come me? Non ci provavo. Ti vedo strana, io ti conosco. Ci devi dire qualcosa? Lo dico. Eh, c'è una sorpresa per la primavera. Ti vedo mamma, per la seconda volta. Ilari Blasi, intervista Silvia Toffalin. No, ti prego. Hai molti amici, Silvia? Ilari Blasi è la mia unica amica, sono solo al mondo. Un difetto di Ilari? È rittardataria. Ma di che? Sì. La mia ex amica è Ilari Blasi. Mi ha fatto scipura la grimuccia, non vogliamo fare di più. Esatto. Cioè, ti arriva a cuba in faccia, così, buh, lo vengono a rispettare. Calma, sì. Il rapporto che c'è tra quei due è questo. Che io la devo calmare. No, mi ha arrivato il messaggio. Ok, dici. Solo te fai la deficiente.